Porta Portessa è bellissimo, è una vita. Venite turisti che vi aspettiamo. Cosa fate? Venite. Siamo qui per voi. Le restrizioni qui, amico mio, non è queste le restrizioni. Qui dovevo restringere come te pare, ma se non c'è stata una gente che compra, che fai? Qui quando hai le restrizioni i porticchi del paese l'hanno bloccato. E il lavoro non c'è. Allora a un certo punto qui la pandemia è di saccoccia adesso. Adesso non è più pandemia di virus, perché poi questo è un virus che va mano a mano sciamando. Noi abbiamo avuto tante restrizioni come qualsiasi persona comunque che approccia il pubblico. Quindi certo la metratura del banco è diversa, ossia da regolamento, da norme e da licenze è più grande. L'abbiamo dovuto restringere per consentire la distanza interpersonale. Si spera che serva perché qualcuno, qualche persona arrivi. E poi ovviamente tutte quelle che sono le misure, i presidi, eccetera. Grazie. Grazie.